Nel pomeriggio di ieri, a seguito della segnalazione pervenuta presso la sala operativa della Questura di Ragusa, il personale del commissariato di Modi che è intervenuto in contrada Salipetra a Scicli per il rinvenimento di un oggetto di forma cilindrica che come previsto si è rivelato un residuato bellico. Immediatamente sul posto gli agenti di polizia hanno accertato che incastrato fra le macerie di un muro a secco di recinzione di un podere privato e rappresenta un residuato bellico, verosimilmente dell'ultimo conflitto mondiale, ancora intatto e quindi potenzialmente molto pericoloso. I poliziotti hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'intera area del rinvenimento in attesa dell'intervento degli artificieri per le operazioni di rimozione e brillamento che avverranno con molta probabilità già nei prossimi giorni.